Ciao Hello Kitty, pronta a parlare del tuo nuovo servizio di consegna a domicilio? Io pensavo di intitolare l'articolo Dolcetti Espressi, ma wow, devono esserci delle notizie nei paraggi, guarda i miei baffi! Mi dispiace ChocoCut, non penso che l'intervista sia una buona idea perché... Le tue consegne spariscono! Come lo sai? Beh, vedo che hai molte bolle di consegna, perciò il servizio deve essere molto richiesto, ma non hai nessun ordine completato. Inoltre devi essere agitata da un po' perché il tuo fiocco è storto di 0,05 gradi. Oh, hai ragione! È tutta la mattina che faccio ordini, ma continuano a sparire! Sembra che tu abbia bisogno del giornalista più in gamba della Sweet Happy News. Facciamo un altro ordine, potresti spedirmi dei tartuffi a casa? Eh, certo! Grazie! Oh, ChocoCut! La scatola! Oh, questo sì che è un mistero! Riproviamo! Scusate! C'è una specie di portale dimensionale nel mio bancone! Probabilmente no, ma potrebbe essercene uno nel mio stomaco, meglio che mangi qualcosa. Ah! Cosa ti porto? Niente, grazie, potrebbe scomparire di nuovo. Vado a mangiare un boccone a casa e torno subito. Ci deve essere un modo per capire chi può aver preso. Eh? Sono i tartuffi che ho ordinato. Ma se sono stati consegnati, allora forse... Scusate! Wow, per tutte le citazioni ho capito! Ho risolto il caso, Hello Kitty! È stato facile come 3,1415926, ma dobbiamo fare un altro ordine. Osserva! Eh, 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 fatto! Scusate! Oh! Eh, si innamorò! Grazie per i dolci, ChocoCut! Dato che quest'ordine è per me, è un problema se lo mangio qui invece di consegnarlo. È stata una mattinata intensa. Vuoi dire che hai consegnato tu gli ordini? Ma certo! Eri così occupata questa mattina che mi sono offerto di aiutarti. Ehi, tranquilla. Li consegno io. Non ti ricordi? Eh, no! Ma forse ero un po' distratta! Grazie, Sinnamoron! E grazie anche a te, ChocoCut! Di niente! Preferisco scrivere un articolo sui dolcetti espressi piuttosto che sui dolcetti scomparsi. Anche se forse prima dovrei far sparire il pranzo! Ciao, amici! Grazie per aver guardato le avventure di Hello Kitty e i suoi amici! Iscrivetevi al canale YouTube e non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere le nostre prossime avventure! A presto!